Siracusa è emergenza economica, integrare il Fondo per la Solidarietà Alimentare. La parte più difficile viene adesso e consiste anche nella capacità di rintracciare nuovi bacini economici per tamponare le sofferenze della nostra comunità fino alla ripresa. In questa settimana ho ascoltato nuovi campanelli d'allarme, il primo eccessivamente trascurato, proveniente dalle persone sole, cosiddette single, che hanno visto aggiungersi alla solitudine l'esclusione dagli interventi di solidarietà alimentare determinata dall'Aggiunta Municipale con la delibera numero 59 del 27 maggio, con cui l'amministrazione che guida la città ha ritenuto che, non bastando le risorse per tutti, andassero escluse i nuclei composti da una sola persona. Il secondo, più eclatante, proveniente dalla categoria dei tassisti, che ha conosciuto la crisi ben prima della pandemia, con la stessa contrazione del flusso turistico e che oggi vede lontana l'uscita dal tunnel, in un territorio privato delle rappresentazioni classiche e impoverito della tradizionale presenza dei stranieri della nostra stagione estiva. A dirla Michele Mangiafico, ex vicepresidente del Consiglio Comunale, ma la stessa aggiunta comunale, con delibera numero 51 del 27 maggio, ha approvato il piano esecutivo di gestione per il 2020, che segue l'approvazione del bilancio con la determinazione dei capitoli di spesa. Faccio riferimento a questo strumento finanziario già operativo perché uno studio più approfondito e orientato all'emergenza economica è in grado di rintracciare nelle maglie dello strumento finanziario risorse comunali che possono ancora servire a integrare gli interventi di solidarietà alimentare, di cui ampie porzioni della città manifestano ancora una stringente necessità. Farò di seguito alcuni esempi non esaustivi, ma esemplificativi, delle risorse oggi disponibili e allocate nel piano esecutivo di gestione già deliberato. La spesa per traslochi imputata al capitolo 3974 appare sovrastimata in via precauzionale per una somma di 60.000 euro. Si potrebbe effettuare una variazione di bilancio per tamponare l'emergenza e integrare i fondi di solidarietà alimentare, lasciando sul capitolo 10.000 euro da aumentare in caso di necessità nel corso dell'anno. Risorse che comunque vanno a unirsi a un altro capitolo destinato ai traslochi, il 3974.1, in cui sono previsti 12.000 euro e che rappresentano la spesa storica, guardando al 2019. Una seconda ipotesi di lavoro nasce dal capitolo 12347, dove sono già disponibili 120.000 euro per gli addobbi natalizi. In considerazione del fatto che ci troviamo ancora nel mese di giugno, potrebbe essere destinata una quota parte per affrontare l'emergenza economica da rimpinguare, in vista della fine dell'anno, con le economie che generalmente emergono da alcuni capitoli del bilancio comunale, come quelli della spesa per il personale o il fondo di riserva del sindaco. Infine, ma non per minore importanza, tutt'altro, la considerazione che al capitolo 260 risultano ancora, in maniera residuale, non posso pensare diversamente, 20.000 euro per indennità di presenza per le adunanze comunali e le commissioni consigliari, a fronte dello scioglimento del Consiglio Comunale. Si tratta di somme assolutamente nella disponibilità dell'amministrazione comunale. Anche attingendo da tutte e tre le fonti del bilancio proposte, si potrebbe intervenire integrando i fondi di solidarietà alimentare con una variazione di bilancio che potrebbe andare da 20.000 a 100.000 euro, venendo incontro alle necessità di base di molta parte della nostra comunità.